salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi porto sul canale una notizia secondo me strepitosa per noi che amiamo il mondo dei droni perché finalmente vi posso annunciare l'arrivo di un servizio di riparazione droni come sapete ragazzi il nostro hobby è bellissimo però è anche un po' pericoloso per i nostri droni nel senso che potremmo andare a danneggiarli noi facendo degli errori di pilotaggio o comunque i droni potrebbero avere dei problemi loro tecnici quindi doverli riparare e in questi casi ovviamente dovremo far riparare i nostri droni che se sono in garanzia per certi versi il drone viene riparato e tutto ok però se il problema è fuori garanzia o il problema non è coperto da garanzia perché facciamo noi un incidente andiamo contro una pianta contro un albero contro un palo la garanzia ovviamente decade e in tutto questo finalmente abbiamo una soluzione si chiama ripara ora questa piccola attività di messina che davvero secondo me è incredibile allora a me era capitato già di utilizzare questo servizio circa un paio di mesi fa se non mi ricordo bene ho fatto anche il video qua su youtube dove ho fatto riparare il mio apple watch che mi era caduto quindi si era distrutto il vetro e loro ragazzi me l'hanno sostituito a regola d'arte perché hanno macchinari hanno tecnici davvero incredibili è un'attività italiana quindi va sostenuta soprattutto in questo periodo e soprattutto perché poi è valida e quando un'attività è italiana ed è valida ragazzi va sostenuta e io vi porto qua sul canale ragazzi come sapete solo cose secondo me valide possono essere economiche costose ma sempre diciamo valide nella loro categoria in questo caso ragazzi parliamo di un servizio che secondo me è top è top perché adesso oltre a riparare gli smartwatch oltre a riparare gli smartphone oltre a riparare i tablet perché loro riparano tutto qualsiasi brand che sia apple che sia samsung che sia ue che sia xiaomi cioè loro riparano tutto con un servizio che è impeccabile perché davvero semplice mandare il prodotto a riparare e poi farlo ritornare a casa riparato è semplicissimo vi lascio qua sopra nelle schede il link del video che ho fatto delle polvoce dove si vede come funziona il servizio che è davvero secondo me incredibile ma adesso questo servizio incredibile viene applicato al mondo dei droni infatti se adesso non andiamo nella loro pagina ripara ora quindi vi lascio il link qua sotto per accedere al sito e andate in acquisti servizio riparazione tra i vari servizi vedete quanti ne hanno abbiamo anche riparazione droni quindi un servizio che mancava secondo me o perlomeno ce n'erano pochi e non fatti così bene questo secondo me è un servizio impeccabile e numero uno per come sta per essere creato ovviamente lo stanno ancora sviluppando quindi non è ancora livello del servizio che riescono a dare per gli apple watch piuttosto che uno smartphone piuttosto che un tablet ovviamente stanno creando il servizio perché comunque loro hanno le competenze hanno un laboratorio di altissimo livello con attrezzature incredibili e questo gli permette di riparare praticamente tutto e io li sto aiutando un po nella collaborazione di che cosa e quali problemi si hanno con i drone e cosa comporterà loro diciamo avere e fornire questo servizio quindi è tutto un servizio che si sta avviando ma se vogliamo è già un po avviato quindi potete già contattarli nel caso abbiate problemi via dicendo ovviamente non hanno ancora delle tempistiche per quanto riguardano le riparazioni via dicendo però sappiate che il prodotto rimane in italia quindi loro cercheranno di mantenere il servizio che danno per gli altri dispositivi che hanno dato fino adesso quindi acquistate il servizio arriva il corriere vi prende il drone da riparare lo porta via e poi ve lo ricapita a casa appena il prodotto è riparato e poi tutto è fatto in maniera semplice vi registrate al sito ok e una volta registrati al sito potete contattare tramite whatsapp infatti vedete che avete nella pagina qui in basso a sinistra il contatto whatsapp e qua avete tutto quello che loro saranno in grado di riparare e vi assicuro che è tanta tanta roba perché sono davvero davvero tecnici super competenti e poi il loro obiettivo è riparare qualsiasi marchio di drone ovviamente dji numero uno perché comunque è il drone più venduto che sia un mavic mini che sia un mavic pro un pro 2 un air un air 2 quindi qualsiasi drone dji ma il loro obiettivo è riparare un po' tutti i droni ovviamente droni che ha senso essere riparati perché se voi avete un drone a 50 euro e lo andate a sbattere e pretendete di ripararlo magari anche no cioè sarebbe assurdo però riparare i droni dji droni parrott e droni xiaomi droni fimi o gli appsan zino e via dicendo tutti questi droni che hanno una fascia di prezzo medio alta questi droni ha senso di ripararli soprattutto ovviamente dopo un preventivo di costo di riparazione perché se il danno è talmente alto che il prezzo raggiunge il prezzo di acquisto magari no però nella maggior parte dei casi sicuramente vale la pena ripararli quindi credo che sia un'idea fantastica soprattutto adesso che i droni stanno prendendo sempre più piede con l'arrivo poi di questi droni sotto i 250 grammi anche adesso che arriverà il nuovo mini 2 che sicuramente sarà venduto in quantità esagerata perché un drone sotto i 250 grammi con caratteristiche pazzesche vale la pena avere la possibilità di avere un servizio di riparazione e poi per il fatto che con l'arrivo di questi droni sotto i 250 grammi che non hanno sensori anticollisione e vengono acquistati davvero da chiunque giustamente perché comunque devono essere acquistati da chiunque questi droni 250 grammi perché meritano però sono anche persone se vogliamo inesperte quindi un attimo andare a sbattere contro una pianta contro un palo comunque fare errori di valutazione o comunque avere problemi anche fuori dalle garanzie invece con droni che magari abbiamo acquistato un paio d'anni fa quindi ragazzi date un'occhiata alla pagina di ripara ora per quanto riguarda appunto questo servizio dei droni vi lascio appunto il link qua sotto in descrizione io spero che la collaborazione che gli sto dando per la crescita di questo servizio serva perché ragazzi meritano davvero tanto perché persone come vi ho detto specializzate italiane che hanno una piccola attività al giorno d'oggi col periodo che stiamo attraversando vanno sicuramente aiutate quindi se possiamo aiutarli facendo riparare i nostri prodotti direttamente qua in italia senza spedirli chissà dove o mandarli chissà dove ovviamente sto parlando fuori garanzia ci sta davvero soprattutto se loro riusciranno a ottimizzare al 100% il servizio come per gli apple watch per gli smart watch per i tablet che a quel punto davvero renderà il tutto impeccabile però potete già contattarvi chiedere un preventivo potrete già contattarli tramite il servizio whatsapp che come avete visto avete qua in basso perché contattarli è semplice vi rispondono subito sono gentili in una maniera incredibile e tutto questo rende il servizio davvero eccellente direi un servizio alla amazon quando il servizio è top ragazzi è top quindi ragazzi spero che questa novità e questo servizio per quanto riguarda appunto le riparazioni nel nostro amato mondo dei droni vi sia stato utile se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porterò novità anche riguardo a questo servizio e tante altre novità seguitemi su instagram e iscrivetevi al mio canale 3gm offerte se non l'avete ancora fatto e si va e ovviamente ragazzi però iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un testo un tutorial o una novità come questa ciao ciao